La sentenza di tutto il paese, sottolineo l'importanza di avere una squadra a San Sant'Aboglio come anche gli altri paesi che come in realtà piccolina non ha molte cose da valorizzare uno di questi è stato in questi ultimi anni la squadra che è riuscita anche a coinvolgere i giovani dei paesi nel loro tifo, nel loro goliardia, facendo prendere le multe nella società quindi questo è stato un po' un aspetto anche negativo ma miglioriamo anche lì stiamo migliorando anche lì vi chiedo soprattutto come ha detto il Presidente di non cadere nelle provocazioni purtroppo che nel calcio sono l'ordine del giorno soprattutto nelle realtà più grandi che hanno più potenziali, più agganci queste provocazioni noi dovremmo essere superiori come dicevamo con i dirigenti l'anno scorso noi dobbiamo vincere tutte le partite 3-0 per essere tranquilli, non è facile dobbiamo porci l'obiettivo poi come dico sempre noi una volta che siamo posti l'obiettivo abbiamo dato tutto in campo e fuori che i dirigenti danno tutto fuori per raggiungere quell'obiettivo abbiamo dato il massimo siamo tranquilli con noi stessi dopo se non si raggiunge la promozione si sta contenti ugualmente questo è l'importante è divertirsi creare un gruppo come diceva il Presidente faccio i complimenti ai dirigenti perché quest'anno sono partiti veramente quasi come dalla terza categoria io penso che è stato simile all'anno del passaggio in seconda perché siamo partiti da zero grazie a loro siamo riusciti appunto ad avere una squadra che potenzialmente è forte come l'anno scorso grazie mille di essere qui e buona fortuna per il campionato grazie